La sessione estiva di Calcio Mercato è ormai entrata nel vivo e sono tanti i calciatori del Frosinone desiderati altrove, soprattutto in serie cadetta, ma andiamo con calma. Quanto al reparto difensivo, quel che si sa con certezza ad ora è che Mauro Vigorito non andrà a Lecce, come sembrava inizialmente, in quanto la società salentina ha acquistato Eugenio Lamanna dal Genoa. Matteo Sciofani resta invece nel mirino di Pescara e Lecce. Roberto Crivello piace alla Salernitana, al Pescara e al Perugia. Quanto all'attacco, è invece in fase di stallo la trattativa con l'Avellino per quel che riguarda l'ex Trapani Nicola Citro, mentre risulta quasi fatta per il prestito di Besea a Matarese al club Irpino. Insomma, diverse viste che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Se attendono sviluppi, la certezza è che sfoltire la rosa sarà determinante per poi poter rinforzare la squadra in vista della tournée canadese, che si avvicina sempre più e precederà l'inizio della prossima stagione di campionato.